12 mesi che accompagnano il prezioso lavoro degli uomini e delle donne dell'Arma dei Carabinieri. Anche quest'anno il calendario 2018 ha un prodotto editoriale innanzitutto apprezzatissimo e di alto livello che grazie all'imponente tiratura sarà presente nelle case e nei luoghi di lavoro a testimonianza del sempre forte legame tra cittadini e carabinieri. Quest'anno il filo conduttore del calendario sono stati i valori sociali e etici dell'Arma dei Carabinieri. Il calendario quest'anno è arrivato a una tiratura di 1.300.000 copie di cui 11.000 in lingua straniera e la novità è che quest'anno si sono aggiunte anche come lingue il cinese, il giapponese e il russo. Nato nel 1928 dopo l'interruzione post bellica il calendario tornò a vivere nel 1950 e da allora è importante interprete con le sue tavole delle vicende dei Carabinieri connessi ovviamente alla storia del paese. Quest'anno sono stati 12 artisti contemporanei a realizzare le opere. Rispetto al passato abbiamo notato uno stile un po' più contemporaneo in questo calendario. Sì, per ogni mese è stata sviluppata una tavola da un pittore contemporaneo quindi un totale di 12 artisti provenienti da tutto il mondo in particolare dalle aree geografiche dove l'Arma dei Carabinieri ha operato all'estero. Parallelamente al calendario l'Arma ha anche la sua agenda 2018 che quest'anno ha dedicato il proprio inserto allo sport e dunque ai gruppi sportivi dell'Arma non dimenticando mai i valori universalmente riconosciuti come disciplina, rispetto, impegno, sacrificio e lealtà valori propri di ogni carabiniere.